segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ma allora sicuramente diciamo quelle del pd sono è stata una sorta di reality no questa notte delle liste con racconti di big semi big accampati a nazareno rinunce anche diciamo motivazioni abbastanza surreali come quelle di Cirinna che ha detto all'inizio che rinunciava a quel collegio perché quel collegio era inidoneo ai temi che lei ha sempre trattato quel collegio tra l'altro insiste come dicono i costituzionalisti proprio sul anche sul territorio di Fiumicino dove il marito di Cirinna e Serino Montino è sindaco da dieci anni quindi è tutto un po' surreale va detto che diciamo tutti i partiti tra poco passeranno insomma da queste forche caudine oggi c'è un'intervista di tagliani su forza italia di forza italia sul corriere che già mette le mani avanti dicendo attenzione amici miei che ci saranno delle rinunce anche insomma dentro forza italia quindi già c'è un avviso l'unico partito che non ha di questi problemi è sembra essere fratelli d'italia sai il pd è sempre il pd quindi espone tutto in pubblico quindi c'è sempre questa questa sorta un po' di autolesionismo un po' questo momento verità un po' questa ricerca sempre continuo di andare allo scontro di cercare nello scontro una nuova una catarsi e quindi entra un po in questa letteratura credo che sia stato normale da parte di Letta insomma cercare di svecchiare un po' le liste anche perché ricordiamoci che i gruppi parlamentari erano i gruppi scelti di fatto dalla segreteria di Renzi nel frattempo il mondo è cambiato c'è stata la segreteria di Zingaretti e adesso c'è Letta Letta non ha vinto alcun congresso Zingaretti sì e ha ribaltato anche diciamo il bilancino in direzione del pd quindi è naturale che ci sia stato un po' di malumore Letta ieri parlando con noi insomma un po' l'ha definito ci ha fatto arrivare questo messaggio che si è tolto il dente del giudizio come dire ho chiuso queste liste che adesso avranno bisogno degli ultimi assestamenti adesso vedremo cosa accadrà agli altri partiti che anche loro avranno il loro bel da fare